o ragazzi bentornati ad un nuovo video e altro giro altra corsa di microfoni perché ormai vedo che c'è questo trend di fare i microfoni xlr che possono essere usati anche via usb abbiamo visto nello scorso video lo shure mv7 di cui mi sono innamorato e che sto usando in questo momento abbiamo visto samson con il suo q a2 q qualcosa comunque microfono gelato e adesso è arrivata un'altra azienda che conoscerete sul canale e si chiama maono che mi ha mandato il suo hd 300 anche lui microfono gelato usb xlr addirittura questo qui arriva con tutto un kit per farci podcast infatti arriva la sua astina il suo pop filter e andiamo a vedere un attimino come suona vi va vi ho spoilerato un po di unboxing nello scorso video andiamo a vedere per bene cosa c'è nella confezione non voglio rovinarla perché questo microfono potrebbe essere protagonista di un contest giveaway non voglio fare spoiler ma vi faccio un piccolo spoiler libretto di istruzioni un cavo xlr questi fanno sempre comodo sempre graditi che altro troviamo all'interno troviamo questo che presumo sia un riduttore per collegarlo alla sua asta ok ho una parte della sua asta da montare non lo so benissimo il fantastico microfono forma gelato molto giocattolosa con questi tastoni più e meno giganti che immagino serviranno a controllare il volume dell'uscita cuffie un comodo switch on off chiaramente sotto uscita xlr uscita cuffie e attenzione attenzione nel 2022 benvenuta usb c e sure questo è chiaramente un leasing a te perché su questo microfono hai messo la micro usb io ti odio usb c molto gradita simpaticissimo aggeggio per montare il pop filter che adesso vedremo un attimino come montare pop filter molto piccolino molto carino molto plasticoso base dell'asta completamente in ferro quindi abbastanza pesante addirittura quello che sembrerebbe uno shock mount però molto particolare sicuramente si aggancia all'asta ma io il microfono qua dentro come 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 lo infilo da capire questa cosa e dulcis in fondo cavo usb usb c dall'altro lato tutto quello che ci serve ok ragazzi ho montato tutto l'accrocchio che è questo si presenta così non la cosa più videogenica per youtube anche se l'asta è carina è anche un pochino allungabile il suo pop filter considerate che tutta questa roba costa 50 euro che per un microfono incluso di pop filter e asta non è niente purché funzioni purché funzioni e la frase chiave qui perché questa è la qualità audio che state sentendo però oltre a questo non c'è nulla perché io mi sono sentito in cuffia mi sento basso ma mi sento e sento comunque un pochino di ronza ok ho provato i tasti qui più o meno guardate io li sto premendo come un forse è nato e non fanno nulla se non far apparire il controllo del volume del mac con un grosso divieto sopra non lo so in cuffia io non sento variazioni di rumore di audio il gain del microfono non cambia assolutamente e quindi non funzionano sono lì ma non fanno nulla mandano qualche input al computer ma non so quale come d'obbligo con questi microfoni double phase usb e xlr io direi adesso lo proviamo anche attaccandolo alla volt one ok un attimo che faccio lo switch adesso state sentendo il suono di questo maono hd 300 collegato alla mia universal audio volt one è un microfono dinamico per avere questo livello di gain sono praticamente quasi a fine corsa del pomello del gain del mio ingresso con questo suono qui collegato via via xlr ve lo consiglierei a 50 euro collegato via usb forse a spendere qualcosina di più ok comunque un microfono dinamico non vi serve la phantom è un accrocchio per quanto un accrocchio è carino da vedere su una scrivania audio più che da vedere da tenere perché occupa veramente pochissimo spazio avete tutto in uno però non lo so non non lo so a questo prezzo state avvicinando via ad una fascia un po superiore ad 80 euro c'è il samson che ho menzionato e che è sicuramente anni avanti a questo però se 50 euro è tutto quello che avete è discreto lo comprerei no è utilizzabile assolutamente sì la qualità audio eccezionale no la qualità audio è abbastanza per la vola la volale scusate arriva dalla cina il microfono è abbastanza per lavorare decisamente sì ci si può tirare fuori qualcosa comunque io tutte le clip ve le lascio non trattate se il volume sarà basso non lo alzerò non farò nulla e in modo che possiate farvi un'idea considerate che per avere questo volume io il gain 80 per cento della corsa ok ragazzi io ringrazio comunque la maono che me l'ha che me l'ha inviato perché comunque sono stati molto carini loro sono sempre molto carini fatemi sapere che ne pensate sicuramente un microfono decente dai non è un microfono da bocciare però se quei tasti funzionassero lo apprezzerei un pochino di più magari fa questo perché sono su max windows si comporterà diversamente però io vi devo raccontare la mia esperienza e se trovo un problema non è che posso passarci sopra ragazzi io direi che non c'è altro da aggiungere un microfono mi invito a questo punto ad iscrivervi al canale se vi interessano queste recensioni un po' pazzarelle un po' cinesi un po' random diciamo che parliamoci chiaro sono anche un po' prevenuto perché dopo aver parlato dello sure mv7 io non potevo arrivare qui e osannare questo microfono era chiaro che avrebbe preso pesci in faccia anche per il prezzo non stiamo ad aspettarci meraviglie però devo anche pensare che a 18 euro c'è il xm 8500 a 30 euro c'è il behringer c1 che è un condensatore diciamo che sulla fascia dei dinamici è un po' difficile andare a battere i re dell'economico che già ci sono ragazzi a questo punto io vi ringrazio per essere stati con me vi invito a dare un'occhiata agli altri video che trovate sul canale e al mio nuovo singolo che è uscito che trovate qui registrato completamente in casa e noi ci vediamo ad un prossimo video da ciao ragazzi